Promosso da Soloptimist International, FIDAPA e Il Giardino delle Muse e Libreria Randazzo, domani a Gela si darà l'iniziativa a letti di notte con lo Shakespeare Works, tra Manchester e Gela parlando di Stratford, coinvolti anche gli alunni del liceo classico Eschilo. Inizieremo domani pomeriggio alle 4, raccontando Shakespeare ai ragazzi, da Randazzo in via Parioli, per poi continuare con un programma molto complesso, ricco e articolato. È notorio che alcuni sostengono che Shakespeare fosse solo un prestanome e che quindi le opere le avesse scritte qualcun altro, perché le opere dimostrano che l'autore era di grande cultura e le notizie che abbiamo di Shakespeare ci dicono che molto probabilmente dovette interrompere molto presto, 11-12 anni, la sua istruzione. Quindi fino ai primi del Novecento i candidati erano tutti inglesi. Dai primi del Novecento e soprattutto poi alla fine del Novecento ci sono state avanzate due candidature di due italiani. Uno di questi due italiani è siciliano, di Messina. Quindi noi dibatteremo questo argomento. Io insieme ai miei compagni della Seconda B del Liceo Classico abbiamo voluto intrattenere bambini raccontando la favola per eccellenza di Shakespeare, quindi il sogno di una notte di mezz'estate proprio ai bambini. Dunque abbiamo adattato i testi, abbiamo creato una scenografia che potrebbe intrattenere bambini e vogliamo appunto estillare l'interesse per la cultura anche ai nostri piccoli amici.